17 tiri, 3 volte abbiamo centrato la porta, 0 gol, 0 gol Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale youtube 17 tiri, 3 volte abbiamo beccato la porta, 0 gol Ma quanto facciamo schifo, mamma mia Voglio fare un appello a tutta la squadra, staff, giocatori, allenatore Riprendetevi, dovete darvi una svegliata perché non se ne può più 17 tiri, 3 volte abbiamo beccato la porta E non abbiamo fatto manco un gol Vergognatevi, una cosa dovevate fare Segnano, andava bene anche un punto ieri Ma invece no, incredibile ragazzi Nelle ultime 4 partite, nelle ultime 4, un punto A Parma contro la squadra di Buffon Abbiamo fatto anche un gol Adesso non è quello passato, dobbiamo guardare avanti al futuro Però ragazzi, cioè come facciamo contro la spalla che fino a ieri Era sotto di noi con gli stessi punti Perdiamo Cioè loro, mi sembra, loro non vedete Adesso vi farò vedere anche i dati della partita Possesso palla e tutto quanto Perché se ve lo dico io non ci credete Cioè 17 tiri, 0 gol Adesso prendo il telefono così Prima lo leggo e poi ve lo faccio vedere sulla videocamera Anche se credo che non si vede proprio alla perfezione Allora Possesso palla E già qua c'è da ridere 63% il cosenza 37% la spalla E già sul possesso palla li abbiamo Proprio Tiri 17 Noi Noi Loro Sei tiri Sei Tiri in porta Le volte in cui le squadre hanno beccato la porta Loro due E vabbè Noi tre Proprio Tiri fuori Noi sette E loro quattro Tiri fermati Ragazzi qua quando l'ho visto Non ci potevo credere perché mi sono messo a ridere Tiri fermati Sette Sette Dall'altra parte Sette per quanto riguarda il cosenza Zero Zero Tiri fermati alla spalla Vi rendete conto Che schifo Non è possibile Che ci hanno fermato per sette volte E noi nemmeno una Che schifo Calci d'angolo Dieci il cosenza Quattro lo spalla Tra l'altro loro hanno anche segnato sul calcio d'angolo Avevano messo la palla in mezzo E poi la palla è entrata Calcio d'angolo Che abbiamo anche regalato noi Ce lo potevamo risparmiare Fuori gioco Siamo sul pari Una a uno Parate Cosenza Uno Spal tre Io rito ma c'è da piangere ragazzi Incredibile C'è proprio Meritavamo qualcosa in più E dovevamo fare qualcosa in più Non dico la vittoria a questo punto Ma almeno il punto Almeno un punto Lo potevamo riuscire a fare ieri Incredibile Voglio dire anche una cosa a Zaffari Zaffari I cambi Se li devi fare Tardi Perché ragazzi Millico l'ha fatto entrare troppo tardi Non so chi ha fatto entrare insieme a Millico Mi ricordo soltanto che aveva fatto uscire Anderson Che anche lui Ad Anderson O gli arrivano i passaggi sbagliati dai compagni Che manco lo guardano Perché Anderson Era libero Nel primo tempo è stato solo Tutta la partita Tutto il primo tempo Era libero Non manco lo guardavano i compagni Oppure sbagliava lui A stoppare la palla Cioè non lo so io O gli davano palle impossibili da prendere Che non ci riuscivo nemmeno io forse Oppure proprio lui Che non prendeva la palla Cioè proprio Ragazzi Una cosa inguardabile Poi ragazzi Millico L'ha fatto entrare come ho già detto prima Troppo tardi Perché abbiamo preso gol Erano già pronte le sostituzioni Soltanto che però Zaffaroni Ha aspettato Dicendo Va finir che mo segniamo Invece no Quelli Non segnavano E intanto Millico era ancora a bordo campo Che stava aspettando Magicamente poi l'ha fatto entrare Perché l'ha fatto entrare Dopo dieci minuti Praticamente Non mi ricordo adesso con precisione Però l'ha fatto entrare troppo tardi E poi Ho sbagliato a fare un cambio Pandolfi L'ha fatto entrare Però ha fatto uscire Gorik Poco prima della sostituzione Aveva sbagliato Un gol quasi fatto Stavamo per riuscire A segnare con Gorik Il gol dell'1-1 Ma invece Cosa ha fatto il mister Ha cacciato Gori E' vero che Gori Non sta segnando Dalla partita Contro il Frosinone Scusate ragazzi Ho raffredato Però Se è un giocatore Che mi Che quasi quasi Me la fa pregiare Io in campo Lo tengo Non lo Non lo caccio Perché mi serve Ieri stavamo giocando Quando è entrato Millico Con il cliente davanti Millico Caso E Gori Cioè Teneva questi tre Fino alla fine E magari Potevamo portare a casa Anche un punto Poi è vero che Di mezzo C'è Maresca Che non voglio parlare Dell'arbitraggio Di Maresca Perché se no Perdo tempo In più ragazzi Il portiere della Spala Ogni volta che doveva Rinviare Ci metteva nera Non è possibile È vero che adesso Che si si brigava a battere Non lo pareggiavamo Perché Quella Eravamo proprio noi Che non riuscivamo a segnare Mica era colpa sua Però Cioè Se devi rinviare Fallo subito Non perdere tempo Tanto state vincendo Non insegniamo Manca a pagare Quindi È inutile Poi ragazzi Proprio Anche la nostra squadra C'è 17 tiri Manca un gol Dai Anche schifo Dai A Palma L'avevamo dominata E meritavamo di vincere Ieri Se magari C'entravano Qualche tiri in più Dentro la porta E segnavano Potevamo dire Meritavamo Anche ieri Qualcosa in più Ma inverno Poi alla fine Non meritavamo Nemmeno il pareggio Perché È vero Ragazzi Allora Io non dico Che ieri Abbiamo giocato Proprio Male Male Malissimo Però Cioè Non è nemmeno normale Che tu mi fai 17 tiri Tre volte Mi becchi la porta E non riesci mai a segnare Contro la spalla Che poi ho giocato Con il portiere di riserva Perché Adesso io non so il motivo Magari Il portiere che c'era nel primo tempo Che era sceso in campo Dal primo minuto Si era fatto male All'anno sostituito Mi pare Mi pare a inizio secondo tempo Avevano sostituito il portiere Adesso non mi ricordo Però Cioè Davvero Cioè davvero Capace di fare Un gol a Buffon E non al secondo portiere Della spalla Che poi Lo sono andato a vedere Ieri sera Anche con un mio amico Dove ha giocato Ha giocato in una squadra Di serie D Che adesso non mi ricordo Manco come si chiama Cioè Questo qui Sono di squadre importanti Soltanto nella spalla Ha giocato Di squadre conosciute Perché la spalla è stata in serie A Quindi la spalla è un poco conosciuta Però Se no Questo qui Ha giocato nel Gozzano Mi pare Dove ha giocato questo Cioè voglio dire Non siamo capaci E dai Su Nelle ultime quattro partite Ovvero Contro Lecce Regina Parma E Spalla Ovvero Quattro Soltanto In una partita Contro il Parma Che era anche quella Dove avevamo più probabilità Di perdere Abbiamo fatto un punto E meritavamo Di vincere Mentre invece Contro la Regina Ovvero il Derby Figura di cacca Figura di cacca Non dico quella parola Perché se no Mi bandano E non voglio rischiare Contro il Lecce Non parliamo proprio Forse Lì già si sapeva Perché il Lecce È una squadra forte E la Spalla Che doveva essere Un avversario Da battere Non troppo difficile Da battere Perché appunto La Spalla Fino a ieri Era sotto di noi A pari punti Mi sembra Io non è che la classifica La guardo sempre Ragazzi La guardo solamente Ogni tanto Quindi non lo so Però mi ricordo che ieri Mentre eravamo Allo stadio Guardavamo la classifica Che la Spalla era Soltanto sotto di noi Di una posizione Ci perdiamo E dai Lì stavamo pure Dominando A un certo punto Dovevamo E potevamo Fare di più Cioè voglio dire La tifoseria Si merita Altro Si merita Assolutamente Il salto di categoria La tifoseria Non la squadra Perché la squadra Merita di andare A picco A picco Verso la sedia E mi sa Che se continuiamo Così da qui Fino a fine stagione In ZRC Questa volta Questa volta Perché già ci dovevamo Giocare quest'anno Però grazie Alla cosa del Chiavo Verona Siamo qui L'anno prossimo Sotto Sotto Se si continuano Su questa strada Se invece i giocatori Dicono Che si vogliono Svegliare E si iniziano A impegnare Come già Stavano facendo A inizio stagione Che stavamo Facendo Un sacco di punti Magari Magari Possiamo stare tranquilli Ma io ragazzi Dopo la sconfitta Di ieri Non voglio stare tranquillo Perché adesso Siamo in zona Playout Ovvero vicini La zona Della retrocessione Quindi io Mi guarderei Le spalle Starei attento E Dobbiamo Un pochino Guardarci intorno Perché non si sa mai Ora giocheremo Martedì A Monza Ci spera bene Anche se Credo proprio che Andrà male Anche lì Figuriamoci Abbiamo perso Contra la spalla Figuriamoci Contro il Monza Che È ancora più È forte il triplo Della spalla È ancora più forte Della spalla In Monza Quindi non lo so Che cosa potrebbe succedere Non resta che Vedere Quindi ragazzi Mi dispiace Poi se non sbaglio Dopo il Monza C'è anche La Cremonese In casa Sabato 4 dicembre Speriamo almeno Se non a Monza Almeno Quanto è la Cremonese Tre punti Sarebbe Graditi Però vabbè Purtroppo ragazzi È andata così C'è amarezza Per questa partita Mi aspettavo Tutto un altro risultato Però purtroppo Così E vabbè ragazzi Io vi ricordo Di iscrivervi al canale Attivando la campanella Per rimanere aggiornati Sui miei contenuti Che usciranno a breve Sul mio canale E niente ragazzi Ci salutiamo E mi raccomando Lasciate Mi piace Sempre Ciao ragazzi